Angelo Capelli, Vice Presidente della Terza Commissione Sanità, coautore della riforma insieme a Rizzi. Il documento è stato approvato. Per quanto riguarda il nostro territorio, cosa cambia? C'è qualcosa da spiegare? La legge è stata approvata nella serata del 5 di agosto e sarà poi pubblicata entro il 20 di agosto. Ma quello che cambia per il territorio di Bergamo, così come per il territorio lombardo, è la nuova fisionomia delle aziende. Quelle che un tempo erano le prestazioni distrettuali erogate dall'ASL, in particolare parliamo di consultori, CERT, ADI e tutte quelle che erano le prestazioni del distretto, passano dal punto di vista erogativo alle nuove aziende. La fisionomia dei distretti è mutata in maniera significativa perché, tanto per fare un esempio, quella che era la vecchia azienda ospedaliere Bolognini di Seriate, che prenderà il nome di Bergamo Est, comprende i territori degli attuali distretti così configurati dell'ASL, che non saranno più nell'ASL ma nelle nuove aziende, del Val Seriana, Valle di Scalve e Bergamo Est, che è tutta la zona dei laghi e ricomprende anche l'ambito di Seriate e di Grumello. Quello sarà il nuovo distretto che afferisce quanto ad attività prestazionale le nuove aziende. Quindi quelle attività di cui ho parlato prima verranno svolte in questo modo. I distretti invece, qui potrebbe essere uno dei punti su cui i comuni saranno chiamati a interpretare a pieno il loro ruolo, saranno invece in capo all'ATS, che è la nuova ASL, e avranno la fisionomia delle aree territoriali delle aziende, quindi quello che ho detto prima sarà un unico distretto e i vecchi distretti diventeranno i nuovi ambiti dei piani di zona. Quindi nel caso della Val Seriana sarà tutta la valle, quindi Val di Scalve, Alta Val Seriana e Bassa Val Seriana. Quindi viene allargata quello che è il punto di riferimento per la stesura di quelli che saranno i nuovi piani di zona e tutto il livello integrativo, questo per permettere una migliore pianificazione e progettualità territoriale. Pensando alle strutture ospedaliere sul nostro territorio, Piario, quale futuro può avere, anche qualora dovessero diminuire le nascite e andare sotto la soglia delle 500? Questo è un tema che al momento non è mai stato nemmeno accennato, quindi direi che non è neppure un argomento dal punto di vista del rischio che il punto nascita possa subire qualche modifica. Piario potrà insieme agli altri presidi interpretare al meglio quello che è lo spirito della riforma. La riforma vuole portare a superare il gap che avevamo, cioè di un'ottima assistenza ospedaliera, ma un sostanziale abbandono del paziente dopo il percorso di cure in ospedale. Quindi tutte le aziende, in particolare quella della quale fa parte Piario, con questi presidi territoriali potranno accompagnare meglio il cittadino paziente nel proprio percorso di cura. E la nuova riforma va proprio in questa direzione, cioè sfruttare di più i presidi territoriali affinché possa essere consentito il completamento della guarigione, della convalescenza, il più vicino possibile al proprio contesto di vita. E in questa fase, integrandosi con le realtà che ci sono, ecco perché è importante, tornando all'accenno che ho fatto prima, ai distretti dell'attività territoriale, perché la vera sfida, quindi anche per il settore sociale che rimane ed è competenza dei comuni, sarà il vero percorso di integrazione che dovrà accompagnare il cittadino paziente dall'ospedale, cioè terminata la cura in ospedale, fino alla propria casa, se è guarito completamente o nel caso di figure di pazienti cronici, che quindi rimangono con delle cure che dovranno essergli erogate per tutta la loro vita, creare il contesto perché vi sia una continuità delle cure, quindi non venga abbandonato a se stesso, in poche parole.